La terapia integrata dell'emicrania è il ruolo dell'agopuntura. Questo è il titolo del nuovo ECM organizzato dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Sassari per sabato 25 giugno a Sassari presso l'hotel Grazia dell'Edda con inizio alle ore 9. Il corso di formazione sarà moderato da Giovanni Ganga, responsabile del centro di diagnosi e cura delle cefalee presso l'azienda ospedaliera universitaria. I lavori si apriranno con i saluti del presidente dell'ordine, Nicola Addis. Seguirà l'intervento di Giovanni Battista Lais, responsabile del centro cefalee della donna dell'Università di Torino. Dopo il coffee break delle ore 11 si parlerà delle novità nella terapia farmacologica nell'emicrane con la relazione di Francesco Zorondu dell'Unità Operativa di Neurologia dell'AAU. Si chiuderà l'incontro con Giancarlo Bazzoni, presidente della Società Italiana di Riflesso Terapia di Torino, che parlerà di agopuntura, neuromobilitazione auricolare nel trattamento dell'emicrania. Ai partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi. Grazie a tutti.